Cari amici, Zingaretti ha dichiarato di sentire il peso del doppio ruolo di segretario di segretario del PD e governatore del Lazio. Cosa volete che vi dica? C'è da capirlo, povero uomo. Evidentemente portare il debito della regione Lazio a ben 22 miliardi di euro e sperperare qualche milioncino, è vero, qualche milioncino per delle mascherine mai arrivate, per quest'uomo evidentemente deve essere stata davvero una enorme fatica. Le mani bucate di Zingaretti preoccupa l'elevata consistenza del debito regionale, ha denunciato la Corrado, che vi specifico è dei 5 Stelle, quindi è un'alleata del PD di Zingaretti. Il debito è pari a oltre 22,5 miliardi di euro, che diventa di 28 miliardi nel conto del patrimonio e non finisce qui, perché bisogna aggiungere l'elevato valore del contenzioso giurisdizionale pendente, che si aggira intorno ai 3 miliardi, si scialacqua alla grande e va pure detto che il dato sul contenzioso pendente non tiene ancora conto dei nuovi e recenti problemi nati con le società per la mancata fornitura di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale, che ha causato alla regione un'esposizione di oltre 25 milioni di euro. Ma le fatiche del prode Zingaretti non si fermano qui. Infatti, dopo aver preso una sonora porta in faccia dal Tar, che ha bocciato l'ordinanza con la quale il governatore voleva imporre i vaccini anti-influenzali obbligatori per certe fasce di età, l'instancabile e stacanovista Zingaretti torna alla carica con una nuova ordinanza che impone l'obbligo della mascherina all'aperto per tutti e in maniera incondizionata, ovvero anche quando una persona passeggia da solo senza che ci sia anima viva nel raggio di chilometri. Ieri abbiamo visto come questa ordinanza, dove si rispetti la distanza di sicurezza, sia priva di logica e anche di fondamento medico, oltre a rappresentare una fortissima limitazione delle libertà personali. E per questo motivo il Kodakons è tornato all'attacco e dopo la vittoria sui vaccini ricorrerà al Tar contro l'ordinanza che obbliga ad utilizzare le mascherine all'aperto. Obbligo di mascherina all'aperto. Parte il ricorso al Tar. Infatti, da sabato 3 ottobre 2020, è obbligatorio fino a nuova disposizione indorsare le mascherine nei luoghi all'aperto durante l'intera giornata nel territorio della regione Lazio. Una decisione presa allo scopo di contenere l'epidemia da Covid-19 e in considerazione della sua evoluzione nelle ultime settimane sul territorio regionale. Ragioni di buon senso, certo, per una misura utile e necessaria. Una misura però che nella sua concreta applicazione, nella misura in cui non prevede condizionalità, appare francamente abnorme. Se ci si trova soli, in un bosco o in un giardino, perché mai dovrebbe essere necessario indossare tali dispositivi? Ecco, in sintesi, la critica che si rivolge a questo e a simili provvedimenti. Invece di restringere la portata applicativa alle situazioni e ai luoghi in cui esista un reale pericolo di contagio, estende pericolosamente l'ambito di applicazione anche a circostanze e situazioni in cui questo pericolo semplicemente non esiste. Aggiungo solo che, come specifica il Kodakons, tutti i cittadini possono preaderire senza impegno all'iniziativa e essere contemporaneamente aggiornati dal Kodakons riguardo agli sviluppi della vicenda. La preadesione non comporta l'obbligo di aderire in seguito all'eventuale azione legale vera e propria e io personalmente ho preaderito. Vedremo come andrà a finire. Quello che è certo, come dichiarato dallo stesso Zingaretti, è che al di là della reale utilità di questa ordinanza, cioè di indossare le mascherine all'aperto, questa ordinanza serve per educare le persone a rispettare le regole. Ora io dico, no ma se questa solerzia, è vero, fosse mai stata utilizzata contro chi sporca e inquina, allora forse oggi Roma non sarebbe una discarica a cielo aperto. Ma che metodo è mai questo, se non il metodo della coercizione? Obbligare le persone a fare qualcosa che è privo di logica e che addirittura potrebbe in certi casi anche causare dei danni alla salute. Questo è un problema che hanno sollevato diversi esperti, tra cui per esempio l'infettivologo Bassetti del San Martino di Genova e anche la stessa OMS. E poi non dobbiamo dimenticare che l'OMS, anche l'OMS, consiglia l'utilizzo della mascherina all'aperto soltanto in zone in cui ci sia un'alta densità di contagi e nelle occasioni in cui non si possa mantenere la distanza interpersonale. Ma torniamo al metodo, concentriamoci sul metodo, ovvero la coercizione. Il badge vibra e suona se il collega si avvicina. Prima si sente un beep, poi una vibrazione, infine si vede una luce rossa. È così che Smart Proximity, il dispositivo indossabile sviluppato da Engineering, insegna ai dipendenti di reale mutua il distanziamento in ufficio. La prima fase di test ha coinvolto 300 dipendenti. Ha funzionato da subito, gli allarmi sono piuttosto fastidiosi, quindi dopo un primo periodo di adattamento i dipendenti cambiano le loro modalità di muoversi all'interno degli uffici e imparano a mantenere in modo naturale e senza sforzo la giusta distanza tra loro. Ora io vi domando se questo non è lo stesso metodo che si usa con gli animali. Per esempio si elettrizza un recinto per non far uscire, per non far scappare gli animali, perché se un animale tenta di uscire si prende una bella scossa e dopo che si è preso una bella scossa beh ci penserà due volte prima di avvicinarsi di nuovo a quel recinto. È un po' come utilizzare il collare elettrico sui cani, cosa che peraltro è anche vietata, mentre in altre situazioni diciamo si utilizzano anche dei metodi che sono meno violenti come per esempio un odore particolarmente fastidioso, un suono particolarmente fastidioso per dissuadere gli animali a compiere determinate azioni oppure anche per obbligarli a compiere queste determinate azioni. Il punto però è che qui non parliamo di animali, qui parliamo di persone, parliamo di tutte le persone, parliamo di tutti i cittadini. E allora che cos'è questa se non la politica della trappola per topi? E il gioco riesce ancora più facile quando è lo stesso topo che si butta felice e spensierato nelle braccia di questa trappola. Comunque detto questo anche l'infettivologo Matteo Bassetti critica duramente l'ordinanza di zingaretti. Il povero anziano che porta fuori il cane a far pipì sotto casa prenderà 400 euro di multa mentre nessuno controllerà chi di notte farà assembramenti con bibite alcoliche. Sono contrario alle sanzioni perché colpiscono sempre le stesse persone. In Italia siamo deboli con i forti e forti con i deboli. Ma veniamo alle misure nazionali. Con la proroga dello stato di emergenza anche il governo ha introdotto l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi in mezzi di trasporto e in tutti i luoghi all'aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi. E qui nasce già un equivoco perché cosa significa essere in prossimità di altre persone? Essere a distanza di due metri, tre metri, dieci metri? Cosa significa prossimità? Ma andiamo avanti. Restando esclusi dai detti obblighi, uno i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, due i bambini di età inferiore ai sei anni e io mi domando come si fa a fare indossare la mascherina ai dei bambini così piccoli per dei tempi così prolungati. Tre i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. Ora a leggere il testo del DPCM sembrerebbe che la mascherina vada portata sempre con sé e che vada indossata anche all'aperto soltanto nel caso in cui ci troviamo vicino a delle persone che non sono dei nostri conviventi. Il che sarebbe almeno ragionevole, purtroppo però secondo Conte le cose non stanno così, infatti ascoltiamo insieme le parole di Conte. Le mascherine, i dispositivi di protezione, d'ora in poi bisogna portarli con sé quando si esce di casa e indossarli. Indossarli in ogni caso a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento. Ecco faccio l'ipotesi, si vive in campagna isolati, in quel caso si esce all'aperto il ragionevole indossare la mascherina, si vive in montagne isolati, in quel caso è il ragionevole indossare la mascherina, ma per il resto la mascherina comunque va non solo portata ma anche indossata, perché noi non possiamo più entrare nell'ottica che uno vede una strada non affollata, se la toglie e se la mette, dobbiamo essere più rigorosi perché vogliamo in tutti i modi evitare nuove misure restrittive per le attività produttive e per le attività sociali. Ecco perché raccomandiamo a tutti e non facciamo distinzione, non facciamo distinzione tra luoghi aperti al pubblico, all'aperto luoghi privati, l'unica eccezione è consentita per le abitazioni private, noi non possiamo, lo Stato non può chiedere ai cittadini al chiuso delle proprie abitazioni di tenere una mascherina e sarebbe anche irragionevole tenere una mascherina tra persone che convivono sotto lo stesso tetto tutto il giorno, però mi permetto di dire abbiamo anche qui una forte raccomandazione a tutti i cittadini, noi anche in famiglia dobbiamo stare attenti, ci sono persone anziane, fragili, vulnerabili, rispettiamo anche in famiglia, nelle abitazioni private la distanza, proteggiamo anche loro con le mascherine se ci avviciniamo, se riceviamo amici, conoscenti, familiari che non convivono con noi, stiamo attenti, quelle come ci dicono gli esperti sono occasioni oggi, le relazioni familiari, amicali in cui più si diffonde il contagio. Ripeto, in questo caso delle abitazioni private stiamo parlando di una raccomandazione, ma una forte raccomandazione. Conte consiglia perfino di indossarla in casa e per chi trasgredisce c'è una bella multa dai 400 ai 1000 euro. E come se non bastasse con il nuovo DPCM le regioni hanno la possibilità di inasprire queste misure e questo vuol dire che secondo il governo l'ordinanza di Zingaretti è perfettamente lecita. Al contrario però le regioni non possono alleggerire queste misure senza il permesso del Ministro della Sanità. Ma abbandoniamo Zingaretti alle sue ordinanze e alla sua gestione fallimentare e passiamo alle interessantissime dichiarazioni del massimo esperto di emergenza dell'OMS che ha fatto una dichiarazione insomma non dico sconvolgente ma quantomeno insomma degna di nota. Cosa ha detto? Ha detto che secondo lui, secondo l'OMS, le persone contagiate dal Covid in tutto il mondo sarebbero addirittura 770 milioni. Circa il 10% della popolazione mondiale potrebbe essere stata infettata da questo virus. L'OMS ha utilizzato la sieroepidemiologia per comprendere l'entità dell'infezione da SARS-CoV-2. La maggior parte degli studi mostra che la sieroprevalenza risulta inferiore al 10% ma gli studi sui lavoratori in prima linea e in alcune aree ad alta intensità stimano che sia superiore al 20%. La stragrande maggioranza del mondo però rimane a rischio. Ora al di là del fatto che in Italia le indagini statistiche condotte dal Ministero della Sanità in collaborazione con l'Istat e la Croce Rossa italiana parlano di poco meno di un milione e mezzo di contagiati, il che corrisponde al 2,5% della popolazione totale e che anche nelle zone più colpite del pianeta questi dati statistici parlano del 5% della popolazione, quindi un dato comunque molto lontano. Ma qui il punto è un altro. Se quanto dichiarato dall'esponente dell'OMS fosse vero, quindi se nel mondo fossero state colpite dal Covid 770 milioni di persone, beh in questo caso dal momento che i dati ufficiali parlano di poco più di un milione di morti, allora in questo caso la mortalità intesa come rapporto tra il numero totale dei contagiati e il numero totale dei decessi sarebbe inferiore allo 0,15% e ancora una volta dagli organi ufficiali, dalle autorità arrivano delle dichiarazioni contraddittorie che non fanno altro che alimentare la confusione. Tornando invece all'allarmismo del governo, in questi ultimi giorni a smontarlo ci hanno pensato Matteo Bassetti e il direttore dell'Istituto Mario Negri. Infatti, mentre l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Sanità nel loro ultimo report parlano di un concreto rischio di un rapido peggioramento epidemico in caso di un rilassamento delle misure, in particolare per eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati e dei comportamenti individuali, anche legati a momenti di aggregazione estemporanei. Matteo Bassetti ha dichiarato che non ci troviamo affatto di fronte ad una seconda ondata, ma bensì siamo di fronte alla cosiddetta coda della prima ondata, mentre Remuzzi, dove è circolato tanto in passato, a me sembra che il virus circoli molto meno e con effetti diversi. C'è una buona dose di immunità diffusa, anche se non possiamo assolutamente considerarla di gregge. Esistono due tipi di immunità diverse che però si possono sommare. Una è quella da anticorpi di chi ha già contratto la malattia. La media in Lombardia è intorno al 7%, ma nelle zone più colpite, tra la Bergamasca e il Lodigiano, è di molto superiore. Poi c'è un'altra forma di immunità altrettanto importante, fornita dalle cellule T, che sono fornite dalla memoria. Una parte della popolazione potrebbe già essere stata esposta in passato a qualcosa di simile al Covid e il nostro sistema immunitario potrebbe conservarne la memoria. Per quanto riguarda Bergamo, gravemente colpita dal virus, la soglia di immunità umorale raggiunta arriva ben al 60%. Secondo Remuzzi la stessa cosa potrebbe essere avvenuta anche in altre zone e, a riprova di ciò, il fatto che oggi la situazione sia molto cambiata. C'è una differenza nei numeri che non può essere spiegata solo dall'elemento psicologico. In altre parole, secondo Remuzzi, la diminuzione dei contagi, almeno al nord, sarebbe dovuta proprio a questa immunità, piuttosto che alla prudenza dei cittadini o alle restrizioni imposte dal governo. Però è chiaro che l'attenzione e il rispetto dei comportamenti individuali in questa fase è decisiva. È il motivo per cui in Francia non sono riusciti a contenere i numeri. E a chi gli fa notare che in Italia i contagi sono aumentati registrando una impennata, Remuzzi risponde che bisogna confrontare questi numeri con il numero, il numero dei positivi, anche con il numero dei tamponi effettuati e che soprattutto non bisogna tanto contare il numero dei positivi quanto contare il numero di ricoveri. Più cerchi più trovi casi, dato che il virus comunque circola in una società tornata aperta. Dobbiamo tenere gli occhi spalancati sull'andamento dei ricoveri. Il 3 aprile in Lombardia c'erano 1444 persone intubate, oggi sono 42 e molti sono ricoverati da tempo. Nella fase più critica da noi moriva il 50% delle persone in terapia intensiva, oggi il 5%. È cambiato il contesto, se tu hai 80 persone che non respirano da gestire fai fatica a stargli dietro. Oggi invece riusciamo a prevenire, a curare subito quello che in primavera non era possibile perché il virus girava da mesi. Cari amici, le parole degli esperti mi sembrano chiarissime e quindi non c'è altro da aggiungere. Un saluto dal vostro Matteo Di Micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.